Allora mi scriverai? Le ragazze a cui scrivere sono rare. Non se sai dove guardi. Mi mancherai ogni secondo. Maggiore Egan è stato il primo pilota assegnato al centesimo. Io e Bucklever. Lei è al comando di 35 aerei e di 350 aviatori. Cerca di non morire finché non ti ho raggiunto. Questa è roba grossa. L'ottava schiererà la più grande flotta aerea che sia mai stata assemblata nella storia dell'umanità. Dritta nel territorio di Hitler. In termini di volo dobbiamo essere superiori. È la missione. Che c'è? Forse sei l'ultimo bel visino che vedrò. Qual è il piano? Guidiamo i nostri fino in fondo. Ciò che facciamo ogni singolo giorno finisce per cambiarci. Dobbiamo combattere i nostri. Le cose di cui sono capaci. Se la sono cercata credimi. Signore guida e proteggi i tuoi servi leali che nel cielo spiegano le proprie ali. Siamo a Toschiki oppure no? Sì, signore! Accompagnali nel volo celeste sia tra i raggi del sole o tra mille tempeste. Ormai siamo staggiati! Dobbiamo fare il nostro dovere! Proseguiamo con la missione finché possiamo. Venderemo cara la pelle.